Venerdì 7 agosto, one shot, one kill, due movimenti nel workout da fare a bomba. Pronti? Warm up di oggi sono 3 set di che cosa? Iniziamo con 40 secondi di single under e poi facciamo 8 hands to elbow push up, abbiamo detto per 3 volte. Dopodiché il workout è un four time dove dovremmo fare che cosa? Si parte con 21 thruster, sarebbe 50 uomini e 35 fanciulle. Dopo questi 21 thruster, moltiplichiamo per 3 il numero e abbiamo 63 double under. Poi diventano 15 thruster e quindi 45 double under. Concludiamo con 9 thruster e con 27 double under. Come cash out abbiamo un 2 minuti dove dovremmo fare il maggior numero di single under. E mi raccomando, seguitici sui nostri canali social che sono Facebook, Instagram e il canale YouTube. Iniziamo il warm up con i single under. 40 secondi, quindi gomiti vicino al corpo, mani un pochino più in basso dei gomiti, piedi vicini, spingiamo forte con la caviglia, pieghiamo un poco le ginocchia. Corpo morbido. Guardiamo dritto davanti a noi. Dopodiché abbiamo gli hand to elbow push up, quindi ci corriamo a terra, mani sotto le spalle, ci spingiamo da terra, partiamo dalla posizione plank e andiamo a terra con un gomito. L'altro ritorniamo su una mano e l'altra mano. Gomito, gomito, mano, mano e magari poi cambiamo giro. Quindi l'altro gomito, gomito, mano, mano. Dopodiché abbiamo i movimenti del workout, si inizia con il 21 thruster, quindi partiamo dalla front rack, gomiti alti, piedi pronti per lo squat, scendiamo in accosciata completa, spingiamo con le anche. Concludiamo il movimento a braccia tese, bilanciere sopra la testa, portiamo il peso alle spalle, deseguiamo un'altra rap, finito i primi di 21 thruster. Abbiamo il triplo delle ripetizioni, ma di double under, quindi sono 63 double under. Questa volta quindi nel punto più alto del salto, doppio impulso con impulso per far passare la corda due volte sotto i nostri piedi. Dopodiché le ripetizioni sono a scendere, abbiamo 15 thruster, accosciata completa, spingo e stendo, arrivo al pezzo e solo allora scendo per riferirne un altro. E poi i double under sono 45. Ultimo round, sempre a scendere le rap, abbiamo 9 thruster. E si finisce il workout con 27 double under. Come cash out invece lavoriamo sui single under max effort in due minuti. Quindi questa volta saltiamo basso, veloce, 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 due minuti il maggior numero possibile. Ecco, non così, se no non ne fate tantissimi in due minuti. E poi di nuovo, il ritmo è leggermente diverso questa volta rispetto ai double, cerchiamo di fare il più possibile, abbiamo detto in due minuti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.